de laurentis tu sei un buffone sei capace di giocare con la pelle dei napoletani sei capace di giocare col calcio mercato sei capace di dire qualsiasi cosa ma nessuno ormai ti crede ragazzi cioè nel senso è la tua strategia tu in questo momento stai cercando di far stare calmi i tifosi del Napoli perché nonostante tutto diciamo che si sentono traditi perché per loro, cosa che ho già detto anche in una live per loro ragazzi esiste ancora una bandiera per loro esiste ancora il giocatore che si affeziona alla maglia non avete capito un cazzo cari partenovei purtroppo al giorno d'oggi è un discorso di soldi se quello ti paga più di quell'altro il giocatore va da quello che ti paga di più ormai non c'entra più nulla affezionarsi non c'entra più nulla, sono attaccato l'Inter comprerà Dries Mertens e io continuo a ripeterlo, non ho paura di dirlo l'Inter comprerà Dries Mertens senza paura perché De Laurenti si sta giocando con i tifosi del Napoli dell'Aurenti sia un buffone ve lo metterà nel culo un'altra volta come ve l'ha messo nel culo con Higuain come ve l'ha messo nel culo con Cavani e come ve lo sta mettendo adesso nel culo con Dries Mertens ricordatevi queste parole io sono pronto a rischiare la faccia io sono pronto a rischiare la pelle ma sono convinto che Mertens se non andrà all'Inter Mertens sicuramente andrà via da Napoli questo è sicuro che va via da Napoli è sicuro al 100% ma io sono anche per certo che finirà all'Inter il prossimo anno quindi adesso girando su Youtube ho visto i tifosi del Napoli esaltati dalla notizia Mertens rinnova Mertens è vicino al rinnovo Mertens non si sposterà da Napoli Mertens è affezionata a questa piazza a questa città a questi colori ai tifosi nostri ai tifosi partenopei ragazzi ragazzi amici conta solo il denaro contano questi contano i soldi conta chi ti paga di più e vedrete che sarete anche smentiti come siete stati smentiti sia con Iguain e sia con Cavani e sia anche parliamo di Amsic parliamo anche di Amsic non vi esaltate troppo perché è tutto finito è tutto finito Dell'Aurentis vi sta prendendo per il culo Dell'Aurentis sta giocando con voi spero che ve ne rendiate conto e spero che mi appoggiate a questo discorso perché se io dico che Mertens andrà all'Inter Mertens andrà all'Inter o quantomeno andrà via dal Napoli e vedrete se non ho ragione io invito ai ragazzi ad iscriversi al canale a lasciare un mi piace a commentare a condividere questo video perché lo devono vedere tutti ma soprattutto lo dovete vedere tutti voi tifosi del Napoli aprite questo video per tutti i tifosi del Napoli ovviamente io ho anche amici napoletani io ai napoletani li voglio bene però fidatevi del sottoscritto io mando un bacio a tutti iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto lasciate like commentate condividete e poi fate il cazzo che volete e poi vedrete chi avrà ragione ciao ragazzi e sempre Forza Inter